Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi facciamo l'analisi tecnica, l'analisi ciclica dei mercati perché l'abbiamo fatta lunedì, l'ordine ho parlato invece di una lezione di trading relativamente ai gap per capire come poter operare sui gap e come considerarli e invece abbiamo rimandato ad oggi quella che era l'analisi ciclica dei mercati di consuetudine che facciamo sempre ogni lunedì per andare a vedere i mercati delle criptovalute allora ragazzi partendo subito, velocemente anche da Bitcoin, poi vedremo anche Ethereum e vi faccio vedere anche la dominance di Bitcoin alla fine del video o quando dobbiamo andarla a guardare questo indicatore perché la dominance in realtà ha dato un'indicazione sulla base del grafico settimanale interessante e volevo farvela vedere ragazzi perché secondo me può essere indicativa anche dello stato di salute del settore altcoin più che di Bitcoin stesso allora andiamo subito a vedere un po' la struttura della ciclicità di Bitcoin Bitcoin ragazzi che continua ad essere indeciso, quindi un trading range importante che già vige da questo mensile, mensile che in sostanza abbiamo visto dal giorno 3 barra 8 settembre quindi in questa zona qui dovrebbe essere iniziato questa fase, questo mensile ragazzi anche se indichiamo in sostanza l'8 di settembre come fase di inizio di questo nuovo mensile quindi abbiamo dei cicli uno da 15 giorni che si è concluso il 23 di settembre e poi il successivo che dovrebbe concludersi a momenti in realtà ragazzi doveva concludersi entro 1-2 giorni per essere preciso ora in sostanza ho indicato un lasso temporale un po' più ampio qui ovviamente anche troppo però ragazzi fino al 14-10 di ottobre ci siamo ancora nei tempi per avere un eventuale close di questo ciclo mensile che potrebbe essere ritornato in pratica intorno ai 30 giorni 30-35 giorni perché è in trading range quindi non ha fatto assolutamente nulla di importante, nulla di rilevante e quindi potrebbe andare a darci una chiusura che poi è una chiusura anche importante ragazzi perché perché andrebbe a indicarci la strada sul semestrale cioè se questo mensile chiude, rialzista rispetto ai precedenti allora indica che dall'8 di settembre è iniziato un nuovo semestrale su Bitcoin semestrale che in questo momento diciamo è stato di accumulazione potremmo chiamare così ma magari nel prossimo ciclo potrebbe andare in effetti a fare il famoso break della resistenza di 12.100 queste fasi ragazzi potrebbero coincidere in effetti con il discorso legato alla presidenza degli Stati Uniti non è un caso questo perché l'analisi ciclica è un'analisi di quelle che prevede appunto l'insieme dei fattori macro che vanno a incidere sui prezzi quindi non è un'analisi che si basa solo su un argomento ma è un'analisi che ha come fondamento l'idea che tutte quelle che sono le news tutti quelli che sono gli indicatori, tutti quelli che sono i comportamenti dei stakeholder del mercato relativi ad esempio all'analisi tecnica vanno poi a confluire in atteggiamenti ciclici perciò nulla vieta che appunto questa fase si vada a concludere proprio poi nelle famose elezioni americane quindi che avverranno a novembre perciò potremmo avere un'altra mensilità di trading range come quelle che abbiamo visto magari in questa fase già però da ieri ragazzi si vede come il mercato reagisca un po' maluccio e Bitcoin abbia un po' meno forza di quello che si ci aspettava relativamente ad esempio ai mercati USA quindi c'è una sorta di decorrelazione di cui vi ho già parlato per esempio nei video precedenti relativamente al mercato USA e Bitcoin lo rivedremo magari nelle prossime settimane ma vi avevo fatto vedere come il grafico della correlazione con SP500 e Bitcoin stava ritornando in versione negativa questa cosa qui potrebbe indicare che Bitcoin in sostanza è un po' più deboluccio in questa fase forse proprio perché da un punto di vista di ciclicità di fase temporale non ha raccolto tutte le sue forze ha camminato tanto quest'anno ha fatto un grande app grande e chiaramente rapportato agli altri mercati perciò ragazzi potrebbe anche essere arrivato il momento di riposare per un po' di tempo ecco per un po' di mesi quindi da un punto di vista di struttura ciclica due sono le considerazioni che dobbiamo fare o andiamo in cross di questo mensile a brevissimo quindi tra pochi giorni e vi dirò una cosettina tra qualche secondo ragazzi quindi restate qui in linea oppure si allunga ulteriormente con una visione ternaria di questa fase ciclica che quindi prevederebbe poi uno sviluppo fino a fine mese di ottobre ma di questo magari ne parleremo successivamente allora qual è la cosa che vi volevo dire il fatto che io analizzando i sottocicli del mercato e operando in termini di trading intraday barra due giorni massimo sul mercato sono andato short ieri con un'operazione sui massimi della candela che vedete sempre utilizzando tutto quello che sono i miei indicatori sono andato più o meno qui in questa fase short sui 700 e qualcosa ed è sui massimi qua ragazzi non era 800 era 750 circa qui in questa zona in questo momento sono in leggerissimo gain però un'operazione intraday che ancora non ho chiuso era questo che vi volevo dire perché non l'ho chiusa? perché se dovessimo andare effettivamente a fare questa close di questo ciclo mensile potremmo anche scendere velocemente in qualche giorno al di sotto di questi minimi di 10.000 dollari e quindi può essere che questa operazione in short possa portare maggiore profitto ora siccome sono in profitto leggero per quelli che riguardano i miei obiettivi ho deciso di lasciare a brecchive bene questa operazione nel senso che se il mercato mi ritorna sul mio prezzo uscirò in pari intorno ai 750 senza fare profitto né perdita quindi pagando solo le commissioni mentre terrò questa operazione per qualche giorno quindi aumentando un po' il lasso temporale proprio in virtù del fatto che mi aspetto una close ciclica se non avverrà amen ragazzi anche perché queste operazioni io le uso anche per proteggermi dalle posizioni holding su bitcoin che invece sono e restano ancora lì posizionate in quanto il trend di medio o lungo periodo di bitcoin resta al rialzo quindi in questo momento non c'è pericolo passiamo poi a vedere Ethereum per quanto riguarda la regina delle crypto anche qui abbiamo una visione molto similare a quella di bitcoin vedete questi cicli che sono stati in sostanza dei mensili un po' particolari che però hanno disegnato anche ve lo faccio vedere magari ecco con questo grafico hanno disegnato anche questa struttura che in analisi tecnica solitamente ragazzi non tradisce e va presa in considerazione perché un break di questo triangolo che vi ho appena mostrato potrebbe innescare anche una rapida un rapido movimento anzi ve lo ridisegno nuovamente per farvelo vedere in maniera chiara ragazzi siamo agli sgoccioli anche qui è un break anche ribassista potrebbe portare Ethereum sul famosissimo supporto a 285 dollari che è un supporto lontanuccio però qual è il discorso? le criptovalute soprattutto le altcoin stanno soffrendo molto in questi periodi voglio fare un video esplicitamente dedicato a un'analisi grafica delle più importanti criptovalute quelle che avevano corso nella prima metà dell'anno e voglio proprio fare questo video che sarà un po' lunghetto ragazzi perché analizzeremo una serie di altcoin tutte quante insieme quindi magari sarà un video di una ventina di minuti però lo voglio fare assolutamente se non direttamente venerdì prossimo vedremo per la prossima settimana quindi iscrivetevi ragazzi se non vi volete perdere questo video perché sarà un briefing da metà anno chiamiamolo così quindi un super briefing anche per capire quando alcuni altcoin come ad esempio link che aveva corso benissimo e soprattutto un progetto interessante dal punto di vista anche macro potrebbe magari riprendere un eventuale trend al rialzo quindi link band insomma le altcoin che lo scorso semestre hanno fatto veramente grandi numeri al momento io vedo che il mercato altcoin sta soffrendo è vero relativamente a bitcoin ma non più di tanto anche qui su Ethereum ragazzi rimane sostanzialmente stabile con una close ciclica all'intorno attesa diciamo intorno alla prima decade di ottobre verso il fino al al 14 praticamente in questa settimana ragazzi entro i prossimi sette giorni se non dovesse avvenire questa close ciclica dovremmo riaggiornarci perché il mercato in barra di congestione chiaramente fa sempre una scomposizione delle attese anche perché in barra di congestione non si muove quindi in pratica conto poco diciamo fare previsioni però in sostanza se non dovesse avvenire entro la prossima settimana una chiusura ciclica ancora una volta ribassista poi rifaremo una serie di conteggi considerate che un eventuale cross di questo tipo se è fatta all'interno di queste mie previsioni all'interno di questi miei parametri mi darebbe anche poi un grande grande vantaggio di sapere quando entrare long su questi mercati perché poi la vera attesa ragazzi non è lo short della chiusura di questi cicli ma è la ripresa del prossimo che sarà un ciclo semestrale e se dovesse ripartire per bene potrebbe fare nuovi massimi per tutto il mercato quindi a me quello che interessa è la nuova ripartenza dei prossimi cicli quindi in questo momento lo short lo sto gestendo solo e esclusivamente a fini speculativi e per brevissimo tempo con stop loss come avete visto anche su bitcoin abbastanza veloci vi faccio vedere in conclusione questo indicatore della dominance proprio perché nella settimanale questo è un indicatore su base time frame settimanale vediamo anche una cosa interessante la dominance è qualche settimana che ha ripreso a salire per quanto riguarda bitcoin da agosto quindi settembre e questa prima decada di ottobre l'ha fatta al rialzo con questo mini trend rialzista vedete ragazzi lo vedete piccolo perché è un trend su grafici settimanali però è anche vero che quest'ultima settimana è una candela il famoso almer rivoltato quindi al contrario è una candela di indecisione molto forte per la dominance che ci dà una indicazione molto importante su quello che pensa il mercato di questa fase cioè il mercato pensa in questo momento che effettivamente siamo in un punto di pericolosità quindi ok magari una piccola parte delle posizioni la rimettiamo su bitcoin e quindi è una dominance crescente vedete anche con una shadow settimanale abbastanza pronunciata ma non pensa che ci sarà un disastro per le altcoin perché perché altrimenti ragazzi avremmo avuto una candela totalmente verde qui che difficilmente sarebbe andata indietro cioè in sostanza moltissima fomo per esempio sulla DeFi su quelli che sono i progetti nuovi delle altcoin rimane sostanzialmente invariata non abbiamo avuto una risalita come queste candele quindi quando vediamo un trend di questo tipo sulla dominance significa che c'è qualcosa che non va e stiamo proteggendoci spostando molta liquidità su bitcoin in questo momento invece le altcoin continuano ad essere interessanti non sono magari in una fase di risalita perché su bitcoin perché avremmo un trend al ribasso come quelli che abbiamo avuto in queste settimane quindi sono in una fase di lateralità barra leggera decrescita ma non è un disastro ecco questo che vi sto dicendo perché per esempio non abbiamo iniziato neanche un trend della dominance di questo tipo e questo è solo un semplice trend di correzione al momento poi vedremo nelle prossime settimane se continuerà così è la correzione leggera di una fase discendente quindi ancora forza per le altcoin rispetto a bitcoin e questo è positivo per l'intero mercato perché indica che questo mercato è ancora vivo e non è detta l'ultima parola per le altcoin di continuare questa loro ascesa ovviamente per i progetti migliori quindi non tutti quanti per cui la dominance ragazzi ancora non ha dato indicazioni pericolose tra virgolette relativamente al mercato altcoin anche io stesso continuerò ad avere alcuni miei investimenti spostati in alcune crypto altcoin nonostante magari alcuni progetti li ho chiusi tempo fa vi ho fatto vedere anche i miei portafogli quindi sono in fase di ricreazione di nuovi portafogli per il crypto valute altcoin che pubblicherò nella mia academy chiaramente in largo anticipo indicando tutti gli ingressi e pubblicherò però anche per voi poi sul canale una volta che ho composto il portafoglio come sempre porterò quello che faccio anche sul canale youtube quindi ragazzi iscrivetemi come sempre lasciatemi un mi piace fatemi sapere quello che pensate nei commenti attesa per questa fase di bitcoin di chiusura ciclica dei mercati in crypto avverrà o meno attenzione questi sette giorni sono importanti short nel breve ci può stare ragazzi assolutamente proteggete l'operazione perché se parte in faccia un nuovo ciclo semestrate bisogna invece risalire lungo quindi pronti col trading casomai per fare un reverse short long va bene ciao a tutti per oggi e noi ci rivediamo nel prossimo video video